Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo di nuovo con la Femini Ciao Questa volta sul canale portiamo un'altra challenge, facciamo la 7 secondi challenge Allora come funziona la 7 secondi challenge? Ognuno dovrà scegliere qualcun altro e dirgli che cosa fare, questa persona dovrà farla in 7 secondi Quindi io direi di cominciare subito Scegli una persona e... Ooooooooooooooooooooooo Che? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 7 secondi per il pilati di tono loggi in bocca Porca fai Tutto dentro 5 4 3 4 2 1 1 2 2 3 2 3 6 5 4 3 6 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 5 6 7 5 4 3 2 1 5 6 6 6 6 6 6 7 8 10 10 6 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 19 19 19 20 20 20 21 22 23 23 24 25 24 troppo tardi ormai non può capir farlo bene giugniamo al prossimo video vi racconto bene ragazzi e boom baby ciao